Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Matti e questo è un glitch dei soldi da fare da soli e l'unica cosa di cui avete bisogno è un centro operativo mobile con l'auto che volete duplicare dentro e nella base operativa dovete avere la BMX allora partiamo dal bunker ragazzi, ovviamente dovete avere bunker e base operativa, chiaro e quindi prendiamo l'auto, la mettiamo fuori nel bunker ragazzi, penso che molti di voi lo sapranno già questo glitch e lo conoscono però ve l'ho voluto riportare giusto per aggiornarvi che funziona quindi lasciate l'auto qui, uscite dal bunker e vi dirigete alla vostra base operativa dove avete le BMX ragazzi quindi ovviamente io qui sono diventato CEO per chiamare l'elicottero, voi fate voi insomma ovviamente non chiamate un altro veicolo perché sennò quello che sta dentro al bunker e vi scompare quindi andiamo nella base operativa una volta nella base operativa entriamo dentro ovviamente ragazzi io qui vi faccio vedere anche la data e l'ora in cui sto girando il video anche perché nel video precedente avevo detto che il glitch funzionava perché altrimenti non avrei portato quello della BMX quindi vedete data e ora e continuiamo a fare il resto del glitch ragazzi come sapete non amo molto tagliare i miei video quindi questo è un pochino in velocità ragazzi tenetevela così com'è la velocità allora io qui prendo la BMX ragazzi premo x per pedalare non premete acceleratore nel mio primo tentativo mi sono impugnato addosso a una parete e perché è andato troppo veloce quindi ho dovuto ripetere il tentativo ho tentato di sbloccarmi addosso a questa parete ma non ci sono riuscito manco accannonate quindi dovrò riprendere la BMX comunque come ho già detto ve lo lascio integrale il video così ve lo vedete tutto quanto paro paro intanto vi ricordo ragazzi che ho lanciato un contest per i 10k quindi per chi vuole partecipare si iscriva al canale ovviamente vi dovete iscrivervi al canale e troverete comunque il link del video in descrizione aiutatemi arrivare a 10k ragazzi e almeno vediamo un po' chi è che vince son benedetto account tutti i dettagli in descrizione quindi ragazzi torniamo qui facciamo comparire freccia destra e premiamo freccia destra freccia e acceleratore automaticamente ci butterà fuori a me spesso e volentieri ragazzi mi fa dei bug strani infatti in questo video mi ha spawnato nella base nel deserto però se lo fa anche a voi nessun problema ragazzi perché il glitch funziona benissimo dove ve spawna ve spawna ve spawna pure in full al mondo però funziona in un altro tentativo mi ha spawnato nella base operativa alla tiga quindi immaginate voi vi richiamate semplicemente l'elicottero il buzzard con il sicuro serve e vi dirigete nuovamente verso il vostro bunker ragazzi dove avete lasciato l'auto fuori per favore una volta che sarete arrivati al vostro bunker l'unica cosa che dovete fare è entrare prendere l'auto che è nel vostro bunker se non vi compare l'auto è perché avete sbagliato qualcosa ragazzi ve lo dico in anzino quindi prendete l'auto che avete nel vostro bunker e ci salite sopra e non appena salite sopra l'auto vedete che l'auto cambia targa e prenderà la targa della BMX con cui la state duplicando voi dite giustamente ma la BMX non ha targa si ma l'auto che avete usato per mettere la BMX nella base operativa si e quindi a questo punto entrate nel com uscite dal com e l'auto sarà vostra e entrate ed uscite un paio di volte ragazzi perché non so per quale motivo ultimamente non sta salvando le modifiche ma l'ha fatto anche a me per ben due volte non so per quale motivo però due volte su 100 a me sembra una buona cosa se volete ripetere il glitch lasciate nuovamente l'auto dove l'avevate lasciata prima e andate nella base operativa e rifate tutto quanto da capo ovviamente io qui sto andando nella base operativa per farvi vedere l'originale di quest'auto meglio l'originale quella che stavo usando prima che si trova nella base operativa e quindi il glitch è riuscito ragazzi allora ripeto questo glitch funziona perfettamente quindi se non vi riesce perché sbagliate qualcosa voi vi faccio vedere nuovamente date e ora in cui ho girato il glitch e vi renderete conto da soli insomma non ho nient'altro veramente nient'altro da aggiungere l'unico appello che vi posso fare ragazzi road210k aiutatemi ad arrivare a 10k per vincere un account con 800 milioni tutto acquistato avete di tutto insomma nella base operativa c'è di tutto il link del video lo trovate in descrizione mi raccomando seguite tutti quanti i requisiti per partecipare al contest dovete avere anche il canale pubblico in maniera che io possa controllare e come ho già detto quando arriverò a 10.000 iscritti estrarrò il fortunato vincitore del contest ragazzi detto questo vi lascio un saluto al prossimo video ciao a tutti ciao 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 ciao